Amici 21, Anna Pettinelli furiosa contro Rudi Zerbi, falso e approfittatore Anna Pettinelli incontenibile contro Rudi Zerbi ad Amici 21, falso e approfittatore Questa settimana, nella nuova puntata di Amici, domenica 21 novembre La gara di canto tra gli allievi non è stata giudicata da nessun ospite speciale A dare i giudizi e i relativi voti, stilando la nuova classifica, sono stati i professori Il primo ad esibirsi è stato LDA sull'assegnazione di Anna Pettinelli che non ha mai apprezzato l'allievo Il voto che la maestra ha riservato al cantante è zero Perché la Pettinelli non ha gradito il fatto che Rudi Zerbi abbia dato l'idea a LDA su cosa fare Secondo la maestra di Amici 21 Rudi ha dato l'input a LDA per vendicarsi di lei e influenzare l'allievo Dunque Anna Pettinelli contro Rudi Zerbi ha urlato Sei stato scorretto Sei un falso e approfittatore Rudi Zerbi zittisce Anna Pettinelli ad Amici, hai una voce che mi uccide Come al solito la discussione tra Rudi Zerbi e Anna Pettinelli è andata avanti per le lunghe e i torni si sono decisamente alzati Dopo le forti parole di Anna Pettinelli contro Rudi Zerbi Maria De Filippi ha provato a stemperare l'atmosfera e ad abbassare i toni Tuttavia la situazione tra i due professori di canto di Amici 21 non è migliorata E visto che Anna Pettinelli parlava sopra Rudi Zerbi quest'ultimo, esausto, ha detto Hai una voce che mi uccide Amici, Rudi Zerbi perplesso dopo il gesto di Anna Pettinelli, che poveretta L'attacco maggiore che Anna Pettinelli ha fatto al collega Rudi Zerbi è, come sopradetto, di aver influenzato LDA contro di lei Mentre Rudi ad Amici 21 dava la sua spiegazione la Pettinelli si è coperta le orecchie per non ascoltarlo Che poveretta Ha commentato Rudi sconvolto e perplesso dal gesto della collega Poi Rudi Zerbi ha messo in guardia un allievo e si è lamentato dell'assegnazione che la Pettinelli aveva dato a LDA Pettinelli ha messo in guardia Grazie a tutti